Assi San Giorgio, per te che non hai mai pensato di stipulare una polizza online, perché oltre al prezzo più basso, vuoi, in caso di bisogno, un contatto diretto con un assicuratore. Per l'assicurazione della tua auto, Assi San Giorgio mette a confronto 18 compagnie per farti risparmiare in tutta sicurezza. Telefonaci, invia un sms o vieni a trovarci in piazza San Giorgio a Sarzano. Assi San Giorgio, la tua polizza, anche i 12 conoderate.